Il mio nome è Patrick Ray Pugliese e sono il fondatore dell'Air Ray Cycles. Siamo una piccola compagnia in Italia che ha fatto cose grandi perché la nostra visione è di rendere il più avanzato e perfetto frame per bicicletta e sport estremi. Questo è il motivo che arriviamo in molti raccogliere, come il cinque posto del World Championship di Andorra nel 2015 e le nostre biciclette sono scoperte in Italia con il lavoro di nostro artesano. Sono scoperte di fibra di F1, di titanio e di titanio e di fibra di fibra di F1. Quindi crediamo che facciamo veramente quello che credo sono i più solidi e buoni bicicletti del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.